Giulia Mincarini, Pocket Salute, siete anche gli organizzatori del Villaggio della Salute che è fuori, qui nello stand. Come ogni anno, anche quest'anno nel 2013 abbiamo organizzato il Villaggio della Salute, per noi è un evento molto importante proprio perché offriamo degli screening gratuiti, e quest'anno sulle malattie cardiovascolari e malattie epatiche ovviamente ci siamo accostati a questa bellissima iniziativa che è appunto quella di Pescara Senior City perché il nostro target è ovviamente quello senior, quindi ci sembrava la cosa più giusta da fare, altrimenti gli altri anni l'abbiamo fatta appunto all'interno di piazze, all'interno del Policlinico Umberto Primo di Roma, insomma è sempre stato un successo, anche quest'anno si è affermato tale. Parliamo un po' di Pocket Salute. Allora, Pocket Salute nasce come appunto rivista gratuita, è un free press dedicato appunto alla salute e al benessere, nasce come iniziativa pescarese, ad oggi nel 2013 pian piano stiamo arrivando un pochino in giro per l'Italia, quindi ecco, il nostro scopo è quello ovviamente di informare sulla salute, sul benessere, tematiche importanti, stiamo cercando di portare le eccellenze che sono oggi al nord verso il sud, quindi è proprio questo, far cercare di incontrare paziente con il medico specialista.